Il nostro Don Giorgio della nostra comunità, il nostro curato che ci racconta un po' la tradizione dei Nicolini. San Nicola era un uomo di vita austera e nel contempo era molto dolce e sapeva incontrare le persone. Si narra che essendo si è ammalato i suoi frati avevano preparato un piatto di pernici e lui venne dicendo questo piatto di pernici e le pernici abbiano ripreso vita e abbiano ricominciato a volare. Quindi mangiare questo pane secco, questi Nicolini, vuol dire imitare la vita austera di San Nicola chiedendo a lui la sua intercessione, la sua preghiera per le necessità della nostra vita. Grazie Don Giorgio.